La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno a tutti, ben trovati con il nostro appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, vediamo le prime pagine, vediamo i principali titoli. In apertura per il mattino nazionale si parla del nuovo decreto rilancio. L'atteso decreto aprile è stato ufficializzato ieri dal Consiglio dei Ministri. Vediamo quali sono i principali punti per il mattino, gli aiuti a famiglie e imprese. Il titolo via libera del governo al decreto rilancio da 55 miliardi, 25 miliardi andranno ai lavoratori, 16, alle aziende. L'Inps anticiperà il 40% della cassa integrazione, niente rate IRAP a giugno. Ecco bonus al 110% solo per la prima casa. Questo il titolo, andiamo avanti, vediamo il commento. Senza misure strutturali non si esce dalle macerie quante opportunità ma anche quante incognite dall'approvazione del decreto che dovrebbe rilanciare il Paese. Il provvedimento varato ieri sera dal governo e ora indirizzato al Parlamento per la conversione in legge mette sul piatto ulteriori 55 miliardi di euro, oltre ai 25 miliardi già stanziati lo scorso marzo con il decreto Cura Italia. E poi il mondo è in crisi, alla fine nessuno potrà fare da solo. Le altre notizie, ci spostiamo di spalla, la col diretti e il caso migranti, quando saranno regolarizzati i nostri raccolti saranno persi. E poi alberghi ed agenzie di viaggio, il mondo del turismo in rivolta, solo mance, non c'è strategia. Nella fotonotizia invece vediamo qui l'immagine dello storico e notissimo bar di Napoli, il Gambrinus, che anche lui, insomma, anche questo bar in crisi, vediamo, dal Gambrinus all'Harris Bar, così non possiamo riaprire molti ristoratori sul piede di guerra, meglio la cassa. Andiamo avanti, le interviste del mattino, contagio al lavoro non è sempre colpa delle aziende, parla il presidente Inail, dai farmacisti alle cassiere, ecco chi rischia di più dal 18, autocertificazione solo per uscire dalla regione. Il contagio da Covid è equiparato all'infortunio sul lavoro. La denuncia di infortunio non determina alcun automatismo nel riconoscimento di parte, di parte, ma va accertata l'origine lavorativa dell'infezione. E poi il caso da un metro a cinque, il distanziamento a ruota libera. Due metri al ristorante, cinque tra la fila degli ombrelloni, sempre due tra l'esdraio. Insomma, cambiano le misure per quanto riguarda il distanziamento sociale, quindi la distanza da mantenere cambia a seconda delle situazioni. Andiamo di taglio basso. Il ministro Azzolina parla della scuola, resta il rischio bocciatura promossi con i debiti, ma è caos voti. All'audizione in Commissione Cultura della Camera ha consentito alla ministra dell'istruzione Azzolina di precisare le regole per la conclusione dell'anno scolastico, ma è caos voti. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori ai sei decimi in una o più discipline, ma i docenti potranno disporre piani di recupero a settembre. Andiamo avanti. Il governatore contro i fessi, De Luca, mascherine al collo. Prepariamoci ad una tragedia. E ancora il caso. La nuova vita da reclusa di Silvia, insulti alla Camera e bottiglie contro le finestre. Il dibattito ha il velo, ma resta italiana, la libertà di culto va difesa. Nella fotonotizia, turra a senso unico, scavi di Pompei, apertura rinviata a fine maggio. Per quanto riguarda invece i box in alto, andiamo a parlare di sport, serie A nel caos, mossa della Lega via il 13 giugno, ma decide il governo. Intanto in Germania la Bundesliga si parte, rumenighe, miliardi di telespettatori. Questa è la prima pagina del mattino nazionale. Andiamo sulla prima pagina del mattino di Salerno. Vediamo il caos bar. Anche qui, insomma, sulla prima pagina del mattino di Salerno si parla delle problematiche che vivono bar e ristoratori per quanto riguarda le nuove regole e le nuove discipline per il distanziamento, per garantire il distanziamento sociale. Vediamo, così non possiamo ripartire, riaprire. Questo è il titolo. Bar e ristoranti, troppi dubbi sulle misure di sicurezza. Abbiamo piccoli locali, non autogrill. Lunedì 7 su 10 resteranno chiusi e le agenzie di viaggio non ci sono idee per ricominciare. Quasi il 70% di bar e ristoranti di Salerno e provincia non riaprirà lunedì 18. Lo annuncia Confesercenti puntando il dito contro l'inapplicabilità della misura dei 4 metri quadri per cliente. Lo denuncia la Fipe Conf Commercio e lo ribadisce anche l'Associazione Commercianti per Salerno, pronta a scendere in piazza. Andiamo avanti, andiamo in Cilento, turismo, servono date certe, dialogo, comuni, operatori. Mentre in costiera spiagge deserti, hotel chiusi, ma arrivano le prime richieste. A centro pagina la sanità, sprint guariti, il doppio dei positivi. A Nocera ha riattivato il reparto dei contagi, salvi mamma, neonato ed un ragazzo. E poi il reportage, terapie mai interrotte, contro alcol, droga e gioco d'azzardo. Andiamo di fondo. La politica e il diktat di Salvini a Forza Italia, un volto nuovo per le regionali. La Lega attacca, ma Berlusconi non risponde. Un silenzio che negli ambienti di Forza Italia è interpretato come una sconfessione. La possibilità di votare a luglio si allontana sempre di più, ma le grandi manovre per la corsa a Palazzo Santa Lucia sono appena iniziate. Se nel centro-sinistra De Luca ha rafforzato la sua posizione, ha allontanato ormai lo spettro di un accordo con il Movimento 5 Stelle, le acque sono invece agitate nel centro-destra. E andiamo avanti. Lutto, San Severino muore in moto, erra nipote dell'ex sindaco. Di spalla invece troviamo le storie, lontano dai miei cari per assistere gli anziani. E poi ancora con gli sketch di vicinato si divertono in 10 milioni. Andiamo in basso. Lo sport, la serie B non decolla, la Salernitana frena. nessuna ipotesi per il ritorno in campo. Il club allenamenti il 25 maggio. E ancora l'inchiesta Scafati, bancarotta, maxi sequestro di una famiglia di commercianti. A Cava dei Tirreni il pestaggio agguato a Della Monica scattano tre condanne. Nei box sotto il titolo di testata e racconto Alice e Bob ricordi di luoghi e cose del passato e poi la rivista Territori Culturali speciale sul post-Covid. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno. Per la città vediamo Sanità privata. Parte la prima inchiesta verifica della Corte dei Conti sui rimborsi al 95% dei ricoveri Covid. Sanità privata, questa è la prima inchiesta. E ancora la truffa delle mascherine cavese nei guai. Questa per le fotonotizie. Andiamo di fondo. Primo piano, tasse, tagli storici, una pioggia di fondi. E qui vediamo il Premier Conte con la Ministra Bellanova. che ricordiamo ieri, infatti, qui se ne parla, nella Lacrime e Vittoria. Passa la linea Bellanova. Ieri le lacrime alla presentazione durante la conferenza stampa. Ed è stata accomunata le lacrime degli annunci della Fornero. Ricordiamolo. Andiamo avanti. L'industria, aziende conserviere sicure e trasformate. Poi, nocera inferiore, scontro in tribunale, Robustella, non cedo. A centro pagina, la rivolta dei balneatori, gli ombrelloni con l'app, meglio non aprire i lidi. Andiamo di spalla, Salerno, più tavolini per i bar, nel mirino dei gestori, lo spazio sul lungomare. A Cava dei Tirreni, tre condanne per il pestaggio di Della Monica, mentre a Battipaglia, abusi in Pineta, la sindaca ruspe entro fine anno. Continuiamo. Scafati, falsi fallimenti, accusa di bancarotta per una famiglia, mentre nel Vallo di Diano, traffico di droga, otto a processo tra Teggiano e Eboli. Di taglio basso, Serie B dimenticata, slitta tutto, l'ultragranata di Cava e Pagani, non si deve giocare, ritiro rinviato. La ripresa del campionato di Serie B è un'impresa titanica. La Federcalcio, a sua volta, ha le prese con i salti mortali per consentire almeno alle squadre di Serie A di cominciare a lavorare in gruppo dal lunedì, sperando di giocare dal 13 giugno. Ha fatto sapere che il protocollo verrà solo per la Lega Maggiore, la Salernitana ha dunque rinviato il ritiro. Questa è la prima pagina della città, vediamo invece quali sono i principali titoli per le cronache. Vediamo, in apertura si parla del decreto rilancio, vediamo il decreto rilancio, finalmente aiuti alle imprese, reddito di emergenze, soldi arriveranno. E qui il punto interrogativo per le cronache, alberghi e stabilimenti balneari non dovranno pagare la prima rata Imo. E per bar e ristoranti niente cosa, migranti regolarizzati. Andiamo avanti a centropagina, barbieri, parrucchieri e centri estetici, linee guida dell'Ina, il prenotazione e mascherine per lavorare, turnazione tra i dipendenti e porte aperte. E ancora deroga al giorno di chiusura e orali flessibili, niente riviste nelle sale. Andiamo a Castel San Giorgio, il prefetto sciolga il consiglio comunale donato all'Alfano, hai votato per i suoli di tuo zio a Castel San Giorgio, opposizione all'attacco dopo la condanna di De Vivo. Continuiamo, blitz tra pagani e scafati, finanza in azione, banca rotta, neguai la famiglia, Sant'Arpino. Per le notizie di spalla, effetto Covid-19, corrivetti, colpite le fasce deboli, giovani e anziani. E poi liceo d'approci, da preoccupazione per gli esami di Stato. Vediamo le notizie riportate di fondo. Verso le regionali, Maresca, il PM e Pino Grimaldi, le alternative a Caldoro. Queste quindi le possibili alternative, quindi si pensa ad un nuovo nome. Andiamo avanti, pagani, la lettera di Vincenzo. Io disabile è stato assente, mentre anno c'era avvocato nei guai per acquisto di droga. Chiudiamo la prima pagina di Lecrona, che passiamo ora, torniamo ora sul mattino nazionale. Andiamo a parlare della manovra del governo, ieri sera il sì al decreto rilancio dal Consiglio dei Ministri. Vediamo quali sono alcuni punti sulle pagine di primo piano del mattino. Vediamo il titolo, via libera al decreto, manovra da 55 miliardi. Conte così tutti gli aiuti, CIG, pagamenti anticipati. Via libera del Consiglio dei Ministri alle misure, ai lavoratori 25 miliardi, alle imprese destinati 16 miliardi. L'annuncio basta, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fase più acuta è finita, le riaperture con un decreto legge. E andiamo avanti, il Premier adesso servirà a una grande riforma fiscale, non ci saranno nazionalizzazioni. Bruxelles, Fratelli d'Italia, verso l'assenzione di Recovery Fund, posizione divisa in tre. Andiamo avanti, di taglio basso, le regole, migranti, sanatoria con paletti per braccianti, colf e badanti. Non c'è chi ha vinto e chi ha perso, ha vinto la dignità e rispetto di persone che vivono in grande difficoltà e potranno incominciare a chiedere tutele nel lavoro. Queste le parole del Ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova. E qui vediamo le sue lacrime, le lacrime di Bellanova, dopo quelle della Fornero. Andiamo avanti, chiudiamo questa pagina, proseguiamo sempre con le pagine del mattino, le pagine di primo piano. Continuiamo a parlare per della politica, ma in particolare in questo caso parliamo proprio dell'ok ai migranti. Perché vediamo che per il mattino ciò è stato l'ok alla regolarizzazione dei migranti. È stata comunque una sconfitta per il Movimento 5 Stelle che apre anche all'ok al MES, così come voluto dal PD. Vediamo ora strada spianata per il MES, ma il PD vede il voto a ottobre. La sconfitta del Movimento 5 Stelle sui migranti, preludio del sì del governo al fondo salva stati. Zingaretti sostiene Conte, ma se non regge elezioni anche il Colle non valuta altre ipotesi. Vertice nel weekend, rinziani premier sì alla sfiducia a buona fede, se non ci riconoscerà a pari dignità politica. E poi troviamo qui l'intervista a Ettore Prandini della Coldiretti. Quando saranno regolarizzati i braccianti avremmo perso il 40% del raccolto. Corridoi verdi per i braccianti dell'est europeo e voucher, noi traditi dai sindacati e la ministra Catalfo. Chiudiamo questa pagina, proseguiamo sempre sulle pagine del mattino nazionale. Parliamo ora di altri punti della manovra del decreto di rilancio. Vediamo i focus per le imprese. Niente IRAP a giugno, ristori fino a 40 mila euro, aiuti al rinnovo dei locali. Sostegni differenziati in base alle dimensioni sugli affitti, arriva il credito d'imposta del 60%. Prima rata IMU cancellata per alberghi, stabilimenti balneari, terme ed agriturismo. Andiamo avanti, per bar e ristoranti niente autorizzazioni sui tavolini all'aperto. Esenzione dalla TOSAP e fino a 80 mila euro di sgravi per adeguarsi. In basso per il lavoro, cassa integrazione allungata. L'Inps anticiperà i pagamenti per gli autonomi, arriverà solo un'altra mensilità da 600 euro. Per gli ammortizzatori vengono stanziati 10 miliardi, mentre ai professionisti e stagionali destinati 4,5 miliardi. Arriva il via libera anche il reddito di emergenza che sarà modulato in funzione del nucleo familiare. Chiudiamo anche questa pagina, parliamo ora invece della campagna. Vediamo che il presidente della regione punta ad un alleggerimento delle misure restrittive. Vediamo campagna verso la normalità. Lo studio è una linea soft per ristoranti e spiagge. Task force a confronto con le categorie, ma sarà decisiva la valutazione sanitaria. De Luca, chi porta la mascherina soltanto a collo, è un imbecille doppio. Il governatore Cauto, la traccia, saranno le linee guida del governo sulle indicazioni dell'Istituto di Sanità. In basso l'intervista di Enrica Amaturo, Disciplina e strategia, il Covid ha svelato un'altra Napoli. La sociologa Campana, nella task force di Colau, ci vorrà tempo e lavoro per capire gli effetti della pandemia. E con questa pagina ci fermiamo, ora per qualche minuto di pubblicità, torneremo tra pochissimo. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo sulle pagine dedicate alle notizie dalla provincia di Salerno. Andiamo sul mattino, in particolare, in primo piano, le notizie per quanto riguarda il turismo. Con il Covid-19, uno dei settori maggiormente colpiti è proprio il turismo. Vediamo il titolo per questa pagina di primo piano, con il mattino, che presenta un po' un'analisi della situazione del settore. Vediamo residenze crociere cancellate, impanne le agenzie turistiche. Questo è il titolo. I tur operator stiamo lavorando solo per assicurare rimborsi e voucher. In bilico anche i balneari, senza regole, impossibile progettare i prossimi mesi. Questa stagione potrebbe saltare, riaprirò nel 2021 per la ripresa, soldi a fondo perduto e niente tasse. Cancellazione di viaggi e crociere, gite scolastiche saltate, prenotazioni per l'estate alle porte, praticamente nulle. Parte da questo scenario la crisi profonda che interessa le agenzie di viaggio, uno dei settori portanti del turismo. Non si intravedono spiragli per il futuro e, in qualche caso, le agenzie registrano persino una forte preoccupazione nel loro clienti al pensiero di rimettersi a viaggiare. Andiamo avanti. Feder Travel, sindaci manager per una ripresa condivisa. L'appello di Cammarota, Postiletto, Spiagge, Lidi, primi cittadini devono individuare risorse subito. Un confronto con le associazioni. Si preannuncia una stagione estiva complessa e di difficile interpretazione. Ne sono convinti gli operatori turistici del Cilento. Questo sarà complicato, se non impossibile, per molti riaprire le strutture turistiche, soprattutto senza aiuti economici. Basta pessimismo appositano. Qualche hotel pronto a riaprire. Gli imprenditori per ripartire occorrono investimenti. Aspettiamo gli eventi pesante batosta per i traghetti. Spiagge deserte, barche in secco, ristoranti e alberghi ancora chiusi. La fotografia della costiera amalfitana è allarmante, soprattutto per lo stato di incertezza che regna in questi luoghi popolati fino allo scorso anno da milioni di vacanzieri. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti sempre sul mattino, vediamo invece com'è, facciamo il punto ora sull'epidemia, vediamo che cala il numero dei contagi mentre aumenta fortemente il numero dei guariti. Ieri soltanto 9 i risultati positivi sugli oltre 3.000 test analizzati, mentre intanto aumentano i guariti da Covid-19. Il titolo, ora il virus è impicchiata, lo sprint dei guariti 378, quasi il doppio dei positivi. I contagi in calo, il nuovo dossier dell'Asli in corsia, un terzo dei malati di un mese fa, SOS oculistica dal Tribunale del Malato, niente terapie e pazienti a rischio. Prossimo allo zero, l'avanzamento dell'infezione, solo 6 nuovi casi su centinaia di test negli ultimi 10 giorni. E a Cava dei Tireni, tutti negativi, i dipendenti dell'ospedale, ricordiamo che venerdì anche i sanitari dell'ospedale Luigi Curto e non solo, anche il personale sarà sottoposto a tampone. Quindi domani tamponi per tutto l'ospedale Curto. Andiamo di taglio basso, gioco, droga e alcol, cure mai interrotte a 960 persone fragili, orari cambiati. E via vai continuo al centro contro le dipendenze, indispensabile assicurare le terapie. Oltre al bacino di Salerno, serve anche i distretti sanitari di Giffoni, Vallepiane e Ponte Cagnano, per un totale di circa 960 assistiti, con patologie di dipendenze da sostanze di alcol, come alcol, stupefacenti, tabacco, psicofarmaci, o comportamentali, azzardo, gaming, internet addiction, shopping compulsivo. Ecco quindi le patologie che vengono, per cui viene fornita assistenza. Andiamo avanti, andiamo ora sulle pagine della provincia di Salerno. Per le notizie di cronaca vediamo l'agguato a della Monica, condannati i mandanti e gli autori del pestaggio, l'ex patron della Cavese, un pedito e un immobiliarista picchiati per far desistere una quarta persona all'acquisto di un'abitazione. Andiamo avanti, cena tra Ucraine e bottigliate a nocera. Prima festeggiano insieme in casa bevendo alcol, poi una delle due viene colpita al volto e sul resto del corpo con un paio di bottiglie in vetro. La tragedia di Taglio Basso muore in moto, erra, lutto e sciocca a mercato San Severino. Andiamo in basso, Salerno, tentata rapina al Bartabacchi, arrestato l'ultimo dei banditi a 21 anni. E ancora, botte ai familiari e furti a Cava, in due in carcere, violenza in famiglie e furti, due reati commessi da due pregiudicati, mentre erano gli arresti domiciliari. A scoprirlo sono stati i carabinieri, diretti dal tenente Pessolano, che li hanno arrestati. Di spalla Palinuro aggredisce un poliziotto e va alla sbarra, mentre in basso droga chiusa nella dispensa, presa 27enne di Capaccio, quinto arresto in cinque giorni nella città dei Templi, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Proseguono in maniera costante i controlli dei carabinieri della Compagnia di Agropoli per reprimere il fenomeno. E chiudiamo anche questa pagina, chiudiamo il mattino, ci spostiamo ora sulle cronache. Torniamo a parlare del coronavirus in particolare, però andiamo a vedere quali sono le fasce maggiormente danneggiate da questa emergenza epidemiologica. A renderlo noto è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASR di Salerno, Giulio Corrivetti, che punta l'attenzione sui fatti di cronaca. Vediamo l'emergenza coronavirus pesa su due fasce e sono adolescenti e anziani. Ogni evento in questa fase ha un riverbero emozionale molto forte e incisivo. Bisogna accentuare di più nei nostri servizi e l'ASR di Salerno l'ha fatto. Adolescenti che hanno risentito in modo forse determinante del lungo periodo di lockdown imposto dall'emergenza covid potrebbe essere questa una delle chiavi di lettura del dramma esistenziale di alcuni adolescenti con l'emergenza che per certi versi avrebbe acuito il disagio giovanile. Una problematica su cui cerca di dare delle spiegazioni il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASR di Salerno, Giulio Corrivetti. Andiamo di taglio basso. L'analisi fase 1. Sono aumentate le richieste nei centri d'ascolto locali. Dopo il covid ci sarà una nuova epidemia di problemi psicologici come si sta registrando un po' ovunque nel mondo. Chiudiamo questa pagina. Andiamo ora sulla pagina della provincia di Salerno. L'area sud di Salerno. Andiamo a Bellizzi in apertura. Rimesso in libertà Michele Bisogni, fratello dei boss accusato di estorsione ad una farmacia per l'assunzione di un congiunto in aula. Il farmacista poi ritira le accuse. A centro pagina Capaccio e manette led di cocaina. Quinto arresto in tre giorni per spaccio. È stata trovata in possesso di 46 grammi di droga. E poi il fatto. Andiamo di taglio basso. Nozze in missione. Militare Capaccese. Sposa collega in Libano. Entrambi impegnati in un teatro operativo all'estero. Si sono sposati nel contesto della crisi causata dal covid-19. Per le notizie di spalla. Eboli, mascherina, nessuno le distribuisce. Ci giugono segnalazioni relative a gruppi di persone che senza autorizzazione alcuna in queste ore girano per le abitazioni della nostra città per consegnare mascherine varie dietro richiesta di rilascio di dati anagrafici sensibili e relativa a firme in calcio e documenti. L'amministrazione comunale non ha rilasciato nessuna autorizzazione al riguardo e nessuna opera per nome o per conto del comune nella distribuzione porta a porta di mascherine o di altri dispositivi di protezione individuale. Andiamo a Battipaglia, mercato si terrà nel rione Sant'Anna. Il mercato giornaliero di via Volturno a Battipaglia nel rione Sant'Anna sarà consentito nella mattinata di oggi, 14 maggio, seguendo le modalità stabilite ora rivolte esclusivamente alla vendita di generi alimentari come lo scorso 10 maggio stabilito dalla sindaca Cecilia Francese. E con questa pagina termina la nostra rassegna stampa, io vi ricordo l'appuntamento con il nostro Tg alle ore 13.45. Grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata.